Insomma, lo volete sentire o non serve? Sì! Abbiamo il batterista, il bassista poi i fisarmonicisti possiamo fare... è un pezzo che dura ovviamente 45 minuti però... vi accompagniamo quando volete quando vi si stancate potete anche uscire tranquillamente, noi non ci ostendiamo noi iniziamo a suonare judge session possiamo andare avanti fino a queste due ore adesso vediamo ci accordiamo su un brano tumore bene, vai Ferdinand Ferdinand Rosso Sì! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti